Avevo, eccomi qua, avevo preparato un sacco di discorsi, volevo dirvi tante cose, ma mi sono dimenticata tutto, ho detto non mi devo emozionare ma mi sto emozionando, quindi succede sempre il contrario di quello che penso e io mi lascio andare al flusso delle emozioni come sempre. Sono già state spese tante parole, voi mi conoscete bene, abbiamo condiviso tantissime cose insieme, belle, meno belle, brutte, gioiose e adesso torno, torno nelle vostre case all'ora del mezzogiorno che sapete è la mia ora preferita anche perché si mangia e sapete quanto sono golosa e cercherò di farlo con spensieratezza, portandovi un po' di leggerezza, un po' di serenità, anche un po' di gentilezza.